Vietato a spiare indiscriminatamente dispositivi elettronici salvo con l'autorizzazione di un giudice e per un periodo limitato. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che gli stati non possono ordinare agli operatori di telefonia la raccolta generalizzata e indifferenziata dei dati di connessione e posizione degli utenti per scopi giudiziari o di intelligence. Unica eccezione è una minaccia grave per la sicurezza nazionale, leggi terrorismo e tuttavia una simile ingerenza, scrive la Corte, anche in questo caso deve essere limitata nel tempo e avvenire sotto la sorveglianza di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente. La Corte si è espressa dopo le sollecitazioni di istituzioni di Francia, Belgio e Regno Unito.